Vieni Giada, grazie, scusate per... ero già arrivato però purtroppo dice quando viene? Ma io già stavo qua, forse non si era visto, magari che ero arrivato. Antonio, un signo previsto PQR, grande attore, grande... Attore Maura io, sì, attore Maura, attore Cargata, proprio attore di questi proprio... anche attore bella Monica, se volete, insomma. Dai, fatti gli scherzi, dai. Allora, non fate casino per cortesia perché non si sente qua. Ecco, vedi? Perché non si sente veramente. Grande romanista. Grande romanista, dalla nascita. Soprattutto tu prenderai questo riconoscimento per la tua attività di solidarietà perché sei a capo di una squadra della nazionale cabarettisti andare su tutti i campi in Italia a fare tanta beneficenza. Sì, diciamo che questa è stata un'idea di circa 8 anni fa, fondare una nazionale cabarettisti che non esisteva e quindi poter dare non solo il sorriso sul palcoscenico ma anche il campo perché se ci vedete giocare veramente facciamo ridere anche il campo, no? A parte gli scherzi, insomma, c'erano nazionalatori, cantanti... poi adesso sono... ogni anno emergono delle nazionali, no? adesso hanno fatto addirittura una nazionale di fonici, dei microfonisti, dei... perché perché non parlano con noi pure dei... dei fotografi... ce la vede dei fotografi? infatti io sono bravissimi, usano la fascia ma non lo scatto beh, la battolessa è scelta... vabbè, poi perché niente? ma, poi la battolessa magari mi piacere e... e no, ci fa piacere grazie perché ricevere un premio per una cosa di solidarietà acquista sempre un valore... un valore diverso a dire il tuo premio? Chi? 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 Giada! Giadina! eccoci, buonasera a tutti quanti, non è la prima volta che io sono qui pacifici è vero? è ormai è un'amica del pubblico però è un'amica di questo premio io sono stato anche premiata con Carlo Manzini, colico Manzini nel passato poi andate a sacca, adesso ti vediamo tutti i giorni su Radio Radio adesso sono su Radio Radio, si tutti i giorni dai 17.30 la trasmissione è sempre la stessa, non succederà più abbiamo avviato l'emittente radiofonica ci siamo, come dire, ingranditi siamo in diretta anche su Sky, sul canale 5Rout e sono molto molto contenta perché abbiamo avuto un grande apprezzamento da parte del pubblico di questa nostra nuova radio, della Radio Radio quindi siamo stati accolti molto molto belli e sono felice di premiare il mio amico perché noi siamo amici, Giuliani, eh? si, da questa sera ci siamo conosciuti non è vero, ci conosciamo tanti, mi sai? ma amore, non è vero ecco ma sei contento che ti prevedi, Giuliani? guardami, guarda così, perché siamo osi uguali ma io c'ho un po' di più di anni, amore si, sono molto contento di vedere che io sarei sembrato le sette colli e qui, ma le colli non è che innalcano è successo io sì, come sai? no, che? che è successo? ma c'era una battuta su poli ho fatto solo su poli bene ecco qua, il premio, grazie grazie, grazie grazie, grazie, grazie per questa bellissima targa spero di tornare a questo altro anno magari, no, uno vi è più scolto fatti vedere cosa ha fatto la maglia grazie 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 Antonio grazie Giuliani grazie Giuliani complimenti